Dimensionamento scolastico, il PD di Modica attraverso il segretario cittadino Salvatore Poi Domani si scaglia contro lo strano silenzio che si respira attorno ad una questione quanto mai serie da affrontare in maniera tempestiva e decisa. E' da mesi che si discute di dimensionamento scolastico, di errori di calcolo, di proposte, spiega Poi Domani e si teme che possa essere soppresso qualche istituto che vengano accorpati plessi o addirittura cancellate realtà scolastiche di vitale importanza. Il dimensionamento e l'accorpamento, prosegue l'esponente DEM, devono essere fatti con saggi criteri e facendo uso del buonsenso al fine di evitare disagi agli alunni e alle famiglie per non compromettere la qualità del servizio scolastico. Inoltre, fatto di non secondaria importanza, bisogna scongiurare il rischio di perdita di posti di lavoro. Di tutto questo si discute, prosegue Poi Domani, tra pochi addetti ai lavori, nelle segrete stanze. Ci sorprende che coloro o colui che se ne stanno occupando non abbiano sentito la necessità di aprire un confronto con i genitori, gli insegnanti, gli organi di rappresentanza, quali i consigli di istituto e con tutta la comunità. Il dimensionamento incide non solo e direttamente sulla vita di insegnanti e studenti, ma anche su quella dei genitori e dei dirigenti e funzionari scolastici. Ignoriamo, conclude il segretario cittadino dei Democratici, se la sindaca e l'assessora stiano attenzionando la questione e quali scelte intendano fare o abbiano già fatto. Di certo sappiamo che la comunità, che vorrebbe condividerle, viene tenuta all'oscuro.